Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. In direzione Roma invece code a tratti per traffico intenso tra Aglio e il Bivio con la variante del Valico. Proprio sulla variante del Valico code a tratti tra Badia e Aglio in direzione Roma. Fino a 11 sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in FIPILI tra La Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita La Strassigna provenendo da Firenze. Sempre in FIPILI ma a causa di lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna ancora in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!